Ciao a tutti. I narcisisti non sono in grado di sostenere un fallimento o addirittura un rifiuto da parte di chiunque. Figuriamoci se vengono letteralmente lasciati e abbandonati dal proprio partner. Ed è precisamente in tali occasioni che al narciso cade la maschera e in questi casi scatterà la sua vendetta che sarà atroce e devastante sotto ogni punto di vista. Darà il via ad una vera e propria campagna diffamatoria sociale e cercherà di compromettere quella che potrebbe essere la tua carriera lavorativa. Non parliamo poi se tu hai avviato una pratica di separazione legale poiché in questo caso dovrai imparare a proteggerti da una serie di minacce che il narciso metterà in atto contro di te. Ma soprattutto preparati a salvaguardare i tuoi figli che saranno presi di mira senza alcuna pietà. Di questo ne parlo nel video consigli per divorziare da un partner narcisista dove spiego come affrontare e superare al meglio il divorzio mantenendo la tua salute mentale. Il narciso vive una rabbia patologica e la sua vendetta può arrivare ovunque. Il noto Freud spiega che questi individui così sadici tendono a infliggere agli altri sofferenze disumane, le stesse che probabilmente sono stati inflitte a loro dai genitori. Il narcisista che si sente offeso e umiliato non avrà pace fino a quando non riuscirà ad annientare tutti coloro che si sono permessi di ostacolarlo o di contestarlo. Non dobbiamo mai dimenticare che i narcisi sono dei parassiti e dei falliti. Nel loro cuore hanno solamente tanta rabbia e astio verso il mondo intero. Il loro unico obiettivo è quello di vendicarsi in qualsiasi modo scagliandosi addosso alle loro vittime, le stesse che sono state capaci di tanto amore e devozione. Ma ti starei chiedendo come faccio a proteggermi da una furia del genere? La prima cosa da fare è puntare e distruggere del tutto il suo imponente ma debole ego. Ricordati sempre che di fronte a te hai una persona assolutamente fragile con un'autostima veramente molto bassa. Hai praticamente a che fare con un bambino crudele e capriccioso. Ecco cosa devi fare. Non temerlo. Se necessario sferra colpi potenti e colpisci diritta nei suoi punti deboli. Cerca di mantenere sempre la calma e in questo modo lo destabilizzi. Non farti prendere dai sensi di colpa e pensa al male che lui o lei è stata capace di infliggerti. Se necessario trovati un buon legale. Non avere paura di denunciare. Se lo desideri puoi farti sostenere anche da un professionista. Parla della tua situazione con più persone possibili e fai in modo che lui o lei lo sappia. Questo è un sistema per bloccare sul nascere qualsiasi idea malsana che il narciso potrebbe avere su di te come ad esempio farti del male fisicamente. Non rimanere mai da sola con lui. Se ti chiede un ultimo appuntamento non accettare mai e dico mai gli ultimi appuntamenti sono stati fatali per molte donne. Quando esci di casa cerca di essere sempre con qualcuno. Non rispondere al telefono ma non bloccarlo poiché potrebbe innescare una rabbia micidiale e una volontà di vendetta tale da far temere il peggio. Lasciali sempre uno spiraglio di speranza senza però mai alimentarla. Lasciali l'illusione che forse un giorno riuscirà nuovamente a dominarti. Evita ogni tipo di incontro. Se lo ritrovi per caso fai finta di niente. Stai calma. Fai come facevo io. Respira profondamente e allontanati dal luogo in cui ti trovi. Se tu mantieni sempre una certa tranquillità e indifferenza anche solo apparente lui o lei non troverà più in te quel rifornimento narcisistico del quale ha estremamente bisogno per sopravvivere e quindi inizierà a perdere l'interesse per te. Nel frattempo lavora sulla tua persona rimettendoti in gioco su tutti i fronti. Con il tempo prenderai la consapevolezza di ciò che hai vissuto magari informandoti su quello che è realmente il narcisismo. Nello stesso tempo inizia a vivere così. Racconta e confrontati con persone che hanno avuto il tuo stesso trascorso. Iscriviti in palestra. Vai a passeggiare magari in compagnia degli amici ma non conoscenti. Cura te stessa o te stesso rivolgendoti da qualche personal trainer, parrucchiere ed estetista. Se sei amante degli animali potresti pensare ad accoglierne uno nella tua casa. Questo è quanto. Ti è capitato di dover subire la vendetta di un narcisista? Scrivilo qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.